ciao a tutti bentornati sul mio canale oggi video decorazione agenda e questa settimana la faremo a tema lama alpaca insomma quelli di tiger allora inizio appunto subito con gli washi e vado ad utilizzare tutti e tre i tipi che ho trovato anche questa settimana vado con i clear stampa per scrivere i giorni spero che lunedì e mercoledì escano perché sotto avevo messo il die cut con lo scotch spessorato e quindi sono un po' a rilievo non so vediamo se riesco a farli uscire se no le ripasserò a penna i tamponi che vado ad utilizzare per rimanere nei colori dei decotepo utilizzo questi quindi azzurro verde e fucsia seconda pagina stessa identica cosa allora vado con i giorni il lunedì e giovedì è venuto un po' sbavato però vabbè fa niente si legge che è lunedì e giovedì e questa è la settimana che va dal 20 al 26 ora vado ad attaccare qualche stickers allora di stickers col bradipo ho questo che era del kit di scrapping bag dell'anno scorso e poi tiger non ha fatto stickers a tema lama e alpaca però li ho trovati da accessorize e quindi utilizzo questi e vado con lama come se non ci fossero domani così qua carinissimi con gli occhi e niente direi che l'ho abbastanza decorata con questi begli stickers puffy e ora vado a scrivere appunto vado a scrivere gli appuntamenti le cose da fare domenica 26 a bergamo si festeggia a santa alessandro e vabbè è l'uno massico di mio nipote e del mio amico per cui me lo segno qui sono ancora l'isola d'elba e vado a inserire la decorazione in agenda devo proprio cominciare una nuova agenda ragazzi perché non ci sta dentro più niente questa barra ad anelli che avevo preso da di express è veramente agli anelli veramente piccolini piccolini adesso vabbè le prendo tutte da mauri e moni che loro hanno le barre quelle con gli anelli più grossi e niente quindi questa è la mia decorazione a tema lama alpaca e bradipo non si potevano non sfruttare questi bellissimi deco tape spero tanto che la mia decorazione vi sia piaciuta lasciatemi un bel pollice in su mi raccomando lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video ciao